144 denunce in sei mesi, 264 le attività produttive controllate con 36 sequestri totali o parziali, individuati 41 scarichi abusivi e 57 le multe elevate per circa 225 mila euro. Questo è il bilancio sui controlli sul fiume Sarno, corso d'acqua tra i più inquinati d'Europa, diramato dai carabinieri. Intanto agli accertamenti dei militari, del Comando Unità Forestali, Ambientali e agroalimentari di Napoli, Avellino e Salerno non si fermano, occhi puntati su scarichi industriali o provenienti dalla mancanza di reti fognarie in numerosi comuni. Soddisfazione da parte del Ministro all'Ambiente Sergio Costa per i risultati ottenuti dai militari con gli screening che proseguiranno, dice promettendo di ridonare dignità a queste terre, mentre Legambiente lancia l'allarme ai microfoni di 8 Channel. Si continua a maltrattare il territorio. Di questi controlli ne avevamo bisogno anche negli anni passati. Mettono in evidenza come chi vive il bacino del Sarno, perché molto spesso chi commette le legalità è anche abitante di queste aree, di questi territori, continua a maltrattare l'ambiente, incurante anche del fatto che mette in pericolo non solo quindi la natura, ma la salute di tutti i cittadini. Le associazioni quindi devono continuare a fare il proprio ruolo, denunciare, segnalare, senza mai dimenticare lo sprono ai cittadini ad essere primi attori nel rispetto dell'ambiente.